Sì, non puoi continuare a caricare i video, si vede, non puoi si vede adesso. Eccoli qui, altri 15 point, non è paga ancora, sono già 45 tiri, non è paga ancora. Sessanta, 60 tiri. Grazie, buonasera, un euro, quanti erano? Non è meglio di niente. Ecco, altri 15. 75 tiri. Sì, quanti erano? Domani dovremmo prendere io. Questa è la prima. Ma darà ancora, eh? Speriamo. Ma darà ancora, darà ancora. Speriamo. È un prodotto ricalco. Ma tutti, quelico별 Marco? D'aku, rock attravi, rock attravi, rock attravi. È un belρό antig & applicato più trante. ora c'evo 15 euro per giocare da 1 e non troppo, l'hanno già finito questo non troppo, l'hanno già finito